Continua lo sciame sismico nei Campi Flegrei. Una nuova scossa di terremoto, di magnitudo 3.2, si è verificata nella notte fra martedì 2 e mercoledì 3 luglio. La Terra, per l'esattezza, ha tremato alle 2.18. La sala operativa degli NGV di Napoli ha rilevato un ipocentro di 3 chilometri. Queste le coordinate esatte del sisma, latitudine 40.8200, longitudine 14.1580. La scossa di terremoto è stata percepita chiaramente in tutti i comuni del circondario, Pozzuoli, Quarto, Bacoli, Napoli, Monte di Procida, Marano di Napoli, Calvizzano. Il sisma del 3 luglio è stato percepito anche nei comuni oltre i 10 chilometri dall'epicentro, da Mugnano di Napoli, Qualiano e Villaricca ai più lontani Frignano, Teverola e Villa di Briano. Napoli, Pozzuoli e Bacoli, nello specifico, sono i comuni interessati dagli sgomberi degli edifici giudicati non agibili. Per la popolazione interessata è stato stanziato un contributo mensile casa che va da un minimo di 400 a un massimo di 900 euro. 200 euro in più verranno elargiti a chi nel nucleo familiare abbia un anziano over 65 o un disabile con percentuale almeno al 67%. Solo il giorno prima, il 2 luglio, si era verificata una raffica di quattro scosse con magnitudo compresa fra 2.5 e 2.9 gradi. Ma sono una dozzina i terremoti verificatisi nella zona negli ultimi 30 giorni. La lista 3 luglio ore 2 e 18, magnitudo 3.2 2 luglio ore 15 e 14, magnitudo 2.5 2 luglio ore 15 e 13, magnitudo 2.8 2 luglio ore 15 e 11, magnitudo 2.7 2 luglio ore 15 e 10, magnitudo 2.9 24 giugno ore 6 e 15, magnitudo 2.0 18 giugno ore 3 e 58, magnitudo 3.4 8 giugno ore 4 e 17, magnitudo 2.3 8 giugno ore 4 e 10, magnitudo 2.7 8 giugno ore 4 e 9, magnitudo 3.7 8 giugno ore 3 e 52, magnitudo 3.0 8 giugno ore 3 e 52, magnitudo 3.5 I campi flegrei sono interessati dal fenomeno del bradisismo, un lento movimento del suolo che porta sia a suo sollevamento che allo sprofondamento. A circa 2 chilometri di profondità, sotto la caldera dei campi flegrei, c'è una roccia di forma cilindrica che sta influenzando il sollevamento della zona. Il masso ha un'altezza di 500 metri e un diametro di circa 5 chilometri. Sono tre le criticità correlate alla zona. Attività sismiche. Rischio di eruzioni vulcaniche. Rischio di esplosioni freatiche, esplosioni d'acqua dovute alle pressioni e alle temperature estreme. Lo spostamento della Terra dovuto al bradisismo è ripreso a partire dal 2005 senza fermarsi. Un evento catastrofico imminente viene giudicato dai vulcanologi non del tutto impossibile, ma relativamente poco probabile.